Un forte applauso per il parroco Don Matteo Coppola. Ora noi siamo qui perché vorremmo annunciare che questa serata è stata resa possibile grazie all'aiuto del popolo di Falciano e anche grazie a Joseph Capriati che è un DJ, lo conosciamo tutti, facciamo un forte applauso al nostro compaesano e quindi volevo semplicemente avvisarvi che questa serata è stata resa possibile grazie a lui, grazie al popolo di Falciano, grazie al nostro comitato e al nostro parroco. Grazie a tutti, buona serata e mi raccomando restate con noi! ... dei consensi nella musica strumentale, grazie. Adesso vi faccio esaltare un brano che avevo presentato a San Rima, un altro braio scorsi, ma non l'hanno voluto, ma io ve lo faccio sentire, il ritmo è buono, lo rego quando dico ballata. One, two, two, three! Solamari! Grazie a tutti! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.